La nave oceanografica Astrea è stata varata nel dicembre 2002, con l'obiettivo di aumentare le capacità di intervento dell'Istituto e ridurre i costi di noleggio per l'esecuzione di campagne di ricerca in mare. Concepita come un mezzo navale moderno e versatile, in grado di trasportare ed impiegare strumentazione tecnico-scientifica, può operare nel Mediterraneo a qualsiasi distanza dalla costa, ospitando fino a 16 persone tra ricercatori ed equipaggio. Nella fase di costruzione e nell'allestimento delle dotazioni, è stata posta la massima attenzione a minimizzare qualsiasi tipo di impatto ambientale. Vista l'evoluzione tecnologica delle attività di ricerca in mare, la nave Astrea si è dotata nel tempo di strumentazioni e competenze all'avanguardia, tra cui alcuni ROV, ossia veicoli subacquei filoguidati, uno dei quali può operare sino alla profondità di 500 metri, un ecoscandaglio multifascio e un side scan sonar. Per migliorare le attività oceanografiche, nel 2014 è stata costruita la Ligea, una nave più piccola e molto veloce, in grado di raggiungere i siti di campionamento nel minor tempo possibile e operare in ambito costiero. Le attività svolte sino ad ora hanno interessato trasversalmente i progetti di ricerca sia dell'ISCRA che di altri enti, accrescendo in maniera considerevole il valore scientifico delle ricerche effettuate.